Da Carlo Bellotti un caloroso benvenuto Settima giornata di Serie D Girone F Il Trastevere Ospita la Vigor Senigallia Azzittita dai fatti in campo Rimesso da Trastevere Giocata Massimo mette in moto il compagno Poi attenzione a De Costanzo Che prova ad andare sul fondo Mette il cross a Lonsi Marini ha ricevuto da Edoardo Roberto Tra le linee il pallone Gambini Poi riceve e si gira Lorenzo Mancini Che vuole andare Poi allarga sulla fascia Chiriota uno contro uno Rientra sul Mancino Attenzione a Chiriota Che va a calciare Il pallone sulla traversa in porta Il vantaggio della Vigor Il gol del numero sette Sabah Chiriota Uno a zero Al undicesimo minuto Si sblocca il match Rimessa Trastevere Giocata Lo porto per Tortolano Cercato Bertoldi Con questo cambio gioco Efficace Bertoldi stoppa Vicina Luice Cervoni Invece Bertoldi Vuole il cross per Alonzi Pareggia il Trastevere Con il bomber Terzo gol In campionato Alonzi Uno a uno Bandierina Lo porto Tortolano Tutto di prima Ancora lo porto Prova con la suola Ad andar via Mette il cross Il secondo palo Bertoldi Per la rovesciata Poi lancio Sporcato Bene da Briatico Per colpo di testa Di Berardi De Costanzo Alonzi Tutto di prima Mettere in moto Tortolano Posizione regolare In era di rigore Tortolano Il numero 10 Va a calciare Accarezza il palo Seguito da un avversario Santovito allora profondo Verso Tortolano La giocata di prima Verso Alonzi Colpo di testa Di Maggi Galluzzi Raccoglie Bertoldi Tutto regolare Per Bertoldi In era di rigore Bertoldi Il raddoppio Della Trassevere Prima Fasis Poi segna lui 2 a 1 Fischia l'arbitro Parte Tortolano Il tiro a giro Il miracolo di Roberto Il pallone ancora vivo In era di rigore Berardi per Tortolano Che adesso vuole andare al cross Con deviazione Calcio d'angolo Emiliano Massimo Ancora A memoria Verso Tortolano Uno contro uno Per Tortolano Da quella parte Va sul mancino Poi rientra sul destro In era di rigore Tortolano Si abbassa E para Due in barriera Sono Bertoldi E Tortolano Come sempre Tante maglie rosso-blu Nell'area di Semprini La rincorsa è di Vrioni È un cross Il pallone passa E c'è il pareggio Pareggio alla Vigor Abbracciato Credo Gambini Per il 2 a 2 Non è Gambini Ma 2 a 2 Sul tabellone Riporta tutto in equilibrio La squadra marchigiana Questo discorso vale anche Per la squadra ospite ovviamente Bertoldi dà la bandierina Il pallone arriva Viene allontanato Poi Tortolano Tiro Strozzato Poi l'appoggio fuori Massimo Pallone ancora vivo In era di rigore Coltacco Alonzi Ed è il gol del 3 a 2 Federico Alonzi La doppietta Tutti a festeggiare Quelli del Trastevere Dopo il controllo Di Tacco La mette in rete Doppietta Ma non c'è Più tempo Può far festa Il Trastevere Che in una partita Dalle mille emozioni Si impone 3 a 2 Sulla Vigor Senigallia Centrando il quarto Successo consecutivo Qui allo Stadium Sulla Vigor Senigallia Sulla Vigor Senigallia